Allora, premetto che il fatto che io sia un bibliotecario, non so come dire, non è che non ha a che fare con questo gruppo, nel senso che la mia professione la porto, ma la porto perché sono un appassionato di albi illustrati, perché questo gruppo si occupa di albi illustrati. È un gruppo che è nato nel 2009 ed è nato dall'idea di una libraia che si chiama Diletta Colombo che è presente in sala e che ringrazio perché ha lasciato fare a me da portavoce per questo gruppo a parlare appunto alle nove da Babar, da quest'idea che aveva letto questo post che stava sul blog di Anna Castagnoli, le figure dei libri che i bibliotecari che si occupano del settore ragazzi sicuramente conoscono. Aveva letto di questa esperienza che Anna Castagnoli aveva fatto a Barcellona rispetto appunto al confrontarsi su testi, sull'albo illustrato e ha proposto questa cosa ad alcune persone che credo frequentassero la libreria dove lei lavora e che probabilmente ha conosciuto anche perché si è occupata per la sua tesi di laurea, la sua tesi di laurea era legata all'albo illustrato e queste persone sono Loredana Farina che di nome conoscerete sicuramente che anche lei è qua presente in sala, editore La Coccinella per capirci e l'altra persona è Giovanna Zoboli e Paolo Canton, topi pittori. Da lì il gruppo ha cominciato a trovarsi dal 9 aprile, se non sbaglio lo leggo sul blog, 6 aprile 2009 ha cominciato a trovarsi mensilmente e queste persone hanno portato altre persone e io sono uno dei contagiati nel senso che ci sono arrivato attraverso un'illustratrice che si chiama Silvia Bonanni che è anche una carissima amica che mi ha invitato una sera a partecipare a questo gruppo e da allora continuo a partecipare a questa cosa perché non so come dire, uso questo termine che può sembrare molto forte ma mi riempie la vita, cioè è l'aspetto piacevole che mi porto a casa e che tengo per me della professione che io svolgo e che è appunto quella di bibliotecario ma in particolare di un bibliotecario che si occupa molto del libro illustrato. Che cos'è il libro illustrato? Il libro illustrato è, non so come dire, la lettura di un libro illustrato è legata all'immagine, preponderante l'immagine, l'immagine deve dialogare con il testo quando c'è, no? Oppure dialogare con le altre immagini. Come funziona questo gruppo? Allora intanto dicendo che ognuno di noi che fa parte di questo gruppo ha una professione che è legata, il più delle volte è legata al libro illustrato, ci sono editori, che già come vi ho detto prima, ma ci sono illustratori, ci sono autori, ci sono bibliotecari e ci sono poi, ci sono anche archivisti che si occupano, mi viene in mente Marta Sironi che fa parte di Apice che è un archivio legato all'Università di Milano e poi ci sono appassionati appunto di libri illustrati. Non siamo tutti di Milano, molti arrivano dalla provincia come me, io appunto abito a Meleniano, ma c'è poi il mio collega di Rozzano, c'è gente che arriva da Bergamo, c'è una persona cinzia che arriva da Catania e poi c'è Giulia che ogni tanto ci viene a trovare che abita invece a Rovereto. E quindi ci troviamo mensilmente o negli studi di qualche illustratore come Giulio Orecchia o Miguel Tanco oppure nelle case private delle persone che fanno parte del gruppo, mi è capitato di essere a casa di topi pittori come invece di Matteo Schubert che è un architetto. Parliamo degli argomenti più disparati legati all'albo illustrato, discutiamo ma ci siamo confrontati alcune volte su un solo albo illustrato, ci siamo confrontati altre volte su un solo autore come per esempio John Alcorn quando appunto Apice ha acquisito l'archivio di John Alcorn e c'era presente il figlio di John Alcorn ed è stata un'occasione un'occasione unica per poter parlare di questo illustratore ma non so come abbiamo fatto incontri legati a, più delle volte sono legati a dei temi come, non so a me viene in mente, una cosa che mi ha divertito molto è stata Capuccetto Rosso, ognuno di noi ha portato libri legati a Capuccetto Rosso, l'obbligo è quello di andare con almeno un libro ma vi assicuro che alcune volte si arrivano con borse di libri e ultimamente io sono un di quelli che porta le borse e vengo anche preso in giro da questa cosa perché ne porto sempre veramente tanti. Abbiamo discusso dell'illustrazione degli anni 70 e abbiamo discusso anche dei libri che parlano dei libri sempre con questo taglio legato appunto all'illustrazione, all'albo illustrato e quindi non so come dire, vengono fuori anche, cioè si passano conoscenze, si passano competenze ma si passano anche cose che sono legate alla nostra infanzia, al nostro percorso di lettori perché per esempio il nome che ha questo gruppo che nasce anche da un'idea di Giovanna Zoboli alle 9 perché ci troviamo sempre alle 21, solitamente è il lunedì in cui ci troviamo alle 21 e Babar perché io adesso esattamente questa cosa non la so perché non ho partecipato ai primi incontri ma sicuramente ci sono delle persone che fanno parte del gruppo che sono affezionate a questa cosa che hanno una loro storia legata a questo personaggio Babar Babar perché suggeriva un po' anche quest'idea che è quella, ha dentro questa parola che è il bar e quindi una dimensione anche un po' più, meno istituzionale, un po' più libera e anche, come dire, ludica anche da un certo punto di vista perché è un divertimento per noi fare parte di questo gruppo, almeno per me lo è e Babar perché poi è un personaggio internazionale e questo per far capire che non ci occupiamo esclusivamente di albi illustrati che troviamo qua in Italia tradotti o scritti da autori italiani oppure tradotti per l'Italia ma abbiamo sempre questa visione anche nei confronti di che cosa c'è oltre alla nostra frontiera quindi questa dimensione internazionale e questa cosa legata appunto a questo nome cerca un po' di suggerire questo nelle intenzioni l'ultima volta in cui si è incontrato questo gruppo è stato alla biblioteca di Rozzano un po' perché ci siamo messi in testa di rivitalizzare un po' non so come dire, dopo qualche anno ci si è messi un po' in discussione su questa cosa devo dire che ci sta facendo bene questa idea di diventare itineranti e di lasciare qualche volta i luoghi dove ci troviamo sempre che sono appunto nella zona dei Naviglia a Milano ma il fatto di essere andati a Rozzano per esempio ha significato che quella sera noi pensavamo di essere pochi ma invece eravamo una trentina di persone dove tra pizza, dolci e birra abbiamo poi presentato il nostro libro ideale che deve starci assolutamente in una biblioteca ideale per bambini e questo è stato quel tema mentre il prossimo incontro e con questo concludo per non occuparvi ancora troppo tempo il prossimo incontro invece è una cosa piacevolissima ci è venuto a cercare il FAI e saremo all'interno di questa manifestazione che ha presentato oggi Boeri prima saremo il 17 di novembre alle ore 17.30 a Villanecchi lì faremo un incontro pubblico del nostro gruppo e il tema questa volta sarà invece Milano Milano cosa vuol dire? vuol dire Milano nell'albo illustrato attraverso gli illustratori, attraverso le immagini attraverso gli scrittori che appunto sono legati a Milano attraverso gli editori che hanno pubblicato a Milano e così via sicuramente tra i nomi che vi ho fatto ho dimenticato altri ma veramente per chi è nel mondo dei libri per ragazzi vi assicuro che ci sono veramente tante persone che i bibliotecari conoscono adesso a me viene in mente Emanuele Abussolati vi ho citato Giulio Orecchia ma è capitato anche qualche volta a Scarabottolo con noi quindi è un'occasione dove noi ci apriamo e siamo anche come dire aperti a chi ha voglia di venirci a trovare a partecipare sul blog che appunto è alle 9 da Babar trovate anche la mail di Diletta a cui se qualcuno di voi è interessato e vuole partecipare non fa altro che scrivere a Diletta e Diletta vi dirà dove ci troviamo la prossima volta e quale sarà l'argomento della prossima volta e quindi saprete anche con quale libro avete voglia poi di venire su quel tema oppure venite semplicemente ad ascoltarci insomma da questo punto di vista ecco una cosa ho sempre pensato che noi fossimo un gruppo di lettura anomalo rispetto anche all'esperienza che io ho di gruppi di lettura perché ne coordino uno alla biblioteca di Meleniano con adulti e invece stamattina sentendo la relazione che ha fatto Luca Ferrieri mi ha decisamente tranquillizzato perché mi ha dato mi ha fatto capire che anche noi siamo un gruppo di lettura perché ci occupiamo di cose che hanno a che fare con la lettura abbiamo incostruito grazie a tutti